Siamo qui a rappresentare l'intero Consiglio regionale per ringraziare nel 25esimo raduno dell'Associazione Nazionale Carabinieri coloro che per tanti anni hanno prestato servizio per la sicurezza dei nostri cittadini. Penso sia importante riconoscere quei valori identitari sui quali si basa la nostra Costituzione e sui quali si basano anche i nostri valori, le nostre visioni e prospettive politiche nel cercare, al di là delle distinzioni di partite, di sigle e di coalizioni, nel rappresentare quell'unità d'Italia e ringraziare quelle persone che hanno reso possibile il riconoscimento e la difesa di questi valori. Quindi oggi il Consiglio regionale è qui presente per dare onore ai tanti carabinieri che hanno prestato servizio nella loro vita.